In questo video voglio mostrarti in anteprima le nuove skin e i nuovi articoli che saranno disponibili nello shop di Fall Guys a partire dal 10 ottobre fino ad arrivare al 1 novembre 2022. Lo sai che i dinosauri dello spazio non si sono estinti? Infatti in Fall Guys saranno disponibili queste skin con dei dinosauri spaziali. Le troverai dal 10 ottobre e fino al 15 ottobre 2022. Se conosci e ti piace El Chapulín Colorado, forse lo hai già visto su Fortnite, ecco le skin a tema. Saranno disponibili dall'11 ottobre e fino al 16 ottobre 2022. Se sei amante degli sport nei quali c'è una palla, saranno disponibili delle skin a tema dal 12 ottobre e fino al 17 ottobre 2022. In arrivo anche altri articoli kudos che saranno disponibili dal 13 ottobre e fino al 20 ottobre 2022. Ci saranno delle offerte speciali sulle skin da fagiolo costruttore, con il suo gilet, caschetto e cintura, pronto al lavoro. Saranno disponibili dal 17 ottobre e fino al 22 ottobre 2022. Sei uno specialista dello spazio-tempo? Allora il kit di costumi completi disponibili dal 19 ottobre e fino al 24 ottobre 2022 è quello che fa per te. Gli articoli kudos non possono mancare. Ecco gli altri che saranno disponibili dal 20 ottobre e fino al 27 ottobre 2022. Ecco infine degli esperimenti dal laboratorio, come la gelatina slime oppure dei vasi con delle terribili piante fagiorivore e altro. Il tutto disponibile dal 24 ottobre fino al 1 novembre 2022. Commenta e fammi sapere che ne pensi di queste novità in arrivo e se ti piace il video, lascia un like. Se non lo hai ancora fatto e vorresti che inserisco altri contenuti del genere, iscriviti al canale. Ciao e al prossimo video!